amici di bella sicilia settembre nell'isola così ci troviamo a capo d'orlando frazione san gregorio ed in lontananza l'isola di lipari questo momento lì splende il sole qual momento cielo coperto da nubi ma non per questo meno bello infatti la sicilia in ogni mese dell'anno ha il suo fascino anche e soprattutto in inverno fateci sapere da dove ci state guardando mentre noi facciamo una breve passeggiata ed anche la bellissima isola di vulcano è qua salina fateci sapere anche che tempo fa dalle vostre parti che domenica è questa dal punto di vista meteorologico nella vostra città grazie a tutti 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 Grazie a tutti.